C'è un po' il pichote? Si C'è un po' il pichote? Non Essayiamo quando necessita Son le chicote Alla scampio è f La luce était perchè ciüngano Che Auchali Si fanno l'ac Yahει Questo mi pianto Ese 80 métrica A tiedemos Questo è per un lago Il paquette è il cammino. No, sta cerrato. Ma non è possibile. Non è possibile. Non c'è nessuno. Vittorio è stato Grossi. Non c'è nessuno di strada. Non c'è nessuno molto. Sottolineato? Sottolineato? Running atrapa a metri. Rafforzato? Rafforzato? Sottolineato? Grazie a tutti.